Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Per 50 anni ha dominato la scena della ristorazione nel sud-ovest della Sardegna. I suoi figli, Antonello e Maddalena, hanno seguito le sue orme mentre Luigi, celebre volto della cucina in televisione, ha diffuso questa tradizione nel suo rinomato ristorante nel cuore di Cagliari. Le sue celebri linguine alla Nicolo, con capperi, tonno, olive e pecorino, sono diventate una prelibatezza rinomata in tutta Italia già nel 1973, quando furono incluse tra le migliori cento paste nella guida barilla. Nicolo Pomata è scomparso all'età di 79 anni. Era il cuoco e titolare del ristorante da Nicolo sul lungomare Batteglieri di Carloforte, aperto nel 1969. Il noto ristoratore, padre dello chef Luigi Pomata, è stato colpito da un malore improvviso che ha richiesto un ricovero d'urgenza all'ospedale Brozzo di Cagliari, dove è stato trasportato con l'elisocorso da Carloforte. Nicolo Pomata era riconosciuto come uno dei re della ristorazione sarda e aveva servito illustri personaggi, sia italiani che stranieri, tra cui Giorgio Armani e Gianni Agnelli. Lascia anche tu un messaggio di conforto per la famiglia. Ciao a presto.